Il servizio antiprostituzione del NAP, il nucleo della Polizia Municipale di Montesilvano, sta dando già i primi risultati. 6 uomini sanzionati con 450 euro di ammenda dagli agenti della Polizia Locale nel corso dei controlli disposti dal Comune di Montesilvano per arginare il fenomeno del sesso a pagamento. I 6 clienti, imprenditori e padri di famiglia, provenienti da altre province, ha sottolineato il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, hanno subito pagato la multa in contanti per non vedersi recapitare nelle proprie abitazioni la raccomandata con la sanzione. Sì, vengono sanzionati i clienti e una cosa probabilmente paradossale nel sistema Italia è che pagano tutti immediatamente la sanzione perché vogliono evitare che la raccomandata arrivi a casa e poi questo può creare dei problemi. Riteniamo che sia l'unica strada, per tanto tempo e per troppo tempo abbiamo sopportato questo sistema, non lo possiamo più fare perché va a ledere la sicurezza dei nostri cittadini, l'immagine della città, il decoro della città e ricordiamo che noi siamo la città maggiormente attrattiva dal punto di vista turistico di tutta la regione Abruzzo, non ce lo possiamo permettere. Già si vedono i primi risultati, signor Sindaco? Sì, continuiamo ad alimentare le sanzioni nei confronti dei clienti, stiamo implementando i controlli, stiamo formalizzando tutti gli impegni che abbiamo preso nei confronti della città, una campagna pubblicitaria forte e degli interventi altrettanto forti. A giorni, fra una decina di giorni arriveranno anche i pannelli luminosi e poi posizioneremo anche le telecamere perché il nostro vuole essere un intervento decisivo nella lotta e nel contrasto alla prostituzione. Per quanti hanno definito la campagna contro la prostituzione omofoba e stessista, cosa risponde? Mi sorprende un po' questo, l'obiettivo ovviamente non era quello, l'obiettivo era far pensare, far discutere. Mi dispiace che chi si indigna magari sono le stesse persone che non hanno mai mosso un dito nei confronti della piaga della prostituzione oppure che quando vedono le prostitute, a volte anche minorenni, girano la testa dall'altro lato. Sapevamo che questa campagna mediatica avrebbe suscitato dello scalpore e con la consapevolezza che però probabilmente avrebbe colpito le coscienze e fatto meditare i tanti uomini in cerca di emozioni forti.